Tutti i racconti sono sul tema delle biblioteche e di fatto quello che ha realizzato F è un ebook autoprodotto come lui donava nessun editore e lui lo vuole, perché è vero, lo vuole presentare, promuovere come il primo ebook autoprodotto è composto di testi e autori già editi, quindi in qualche modo, per quanto non è vero in tutti i casi, però insomma è una novità Grazie